Per la firma in calcio ai contratti bisognerà attendere il primo luglio, ma l'Avellino ha già in mano almeno sei calciatori destinati a portare una ventata di freschezza e gioventù in rosa. Si tratta di Asma e Gatto provenienti dall'Atalanta, Don Corre Bellomi dall'Inter, Stefan Omiunga e Idris Camara dalla Serie D. In realtà gli acquisti virtualmente conclusi, però, potrebbero considerarsi addirittura otto se si pensa che per Radu, portiere dell'Inter, e Fazzi, centrocampista della Fiorentina, si è praticamente ai dettagli, malgrado su quest'ultimo sia tornato in pressing il Crotone. Un buon motivo per tirare un attimo il fiato sul mercato e pensare anche a sfoltire la rosa, iniziando a risolvere i contratti con Tavano e Sbaffo. Con il primo si profila un divorzio consensuale, troppo forte la delusione per la stagione appena archiviata, per sperare di prolungare un rapporto che la scorsa estate aveva fatto sognare i tifosi ad occhi aperti. I tre gol, segnati in 22 spezzoni di partite, hanno fotografato in maniera impetuosa un flop tanto clamoroso quanto inaspettato, che non avrà occasione di riscatto. La volontà manifestata dall'Avellino a Marco Sommella, agente di Tavano, è quella di interrompere il rapporto in maniera cordiale. Una volontà, a quanto pare, reciproca, da qui l'ottimismo che regna tra le parti di poter trovare un'intesa nelle prossime ore per stracciare il secondo anno di contratto in essere con l'ex bomber dell'Empoli. Salvo colpi di scena, quindi, si eviterà il braccio di ferro e il bagno di sangue economico registrato lo scorso anno con Togni. Incamminato verso la porta d'uscita, senza fare polemiche, appare pure Alessandro Sbaffo, che vanta ancora un biennale. L'ex Comasco è stato richiesto dal Parma che in Lega Pro vorrebbe affidargli un ruolo importante.